Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati in un nuovo episodio della Silver Run qua sulla Platinum Expression Farming Simulator 22 Oggi sarà un video molto utile soprattutto agli amici, anzi quasi esclusivamente agli amici che giocano su PC perché grazie alle persone che mi seguono in live, nei video che mi danno sempre consigli, sono riuscito a trovare una combinazione di autoload che funzionano sia per la legna sia per i pallet che però purtroppo sono entrambi per PC gli amici che giocano da console non ne hanno bisogno alla fine perché hanno gli autoload di Ershaba che funzionano benissimo con i prodotti anche se li caricano uno per volta però vi potete sbizzarrire con quello lì su PC io preferisco quelli immediati, cioè gli autoload immediati che caricano più file type alla volta ed è proprio quello che ho trovato grazie a voi, grazie ai vostri consigli e quello che andremo a vedere oggi prima però vi ricordo che in descrizione c'è Twitch dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis, sostenere il canale ed entrare nella fantastica chat e Telegram stasera tra l'altro alle 20 e 30 torna pure la Formula 1 con la Robby Mell F1 League la terza giornata vi pare, accorrete, accorrete, accorrete poi potete offrire un caffettino se pensate che ne sia meritevole offrirmi un piccolo ringraziamento con il super grazie, un piccolo sostegnetto al canale con il super grazie qua sotto poi tanti link utili, i miei social per comprare i giochini scontati di Sista Gaming e per comprare tutto quello che riguarda farming dalla mia affiliazione Giants Partner detto questo ragazzi iniziamo innanzitutto è una nuova giornata, siamo a luglio, sono le 8 e 3 del mattino quali sono gli autoload? allora gli autoload che vi consiglio di scaricare adesso io vedo se ci sono su King Mod e casomai metto il link di King Mod perché sapete che io non amo mettere link di siti esterni King Mod è l'unico diciamo riconosciuto anche dai modder è quello che mette d'accordo un po' tutti quindi se questo autoload c'è su King Mod è bene se no vi metto solo il nome e ve le andate a cercare allora l'autoload che vi consiglio io si chiama Universal Autoload ok? ma sono due mod una si chiama Universal Autoload e rende autoload tutti i carri di default per le balle e per i pallet un altro è un add-on che funziona insieme a questa mod e si chiama Universal Autoload Mod Hub Add-on ok? grazie ad esso tutti i mezzi presenti sul mod-hub perlomeno fino all'uscita di quell'add-on sono... diventano autoload io infatti adesso vi faccio vedere sto usando questo fantastico MAN che tra l'altro credo di aver preso... credo di aver preso in affitto sì esatto l'ho noleggiato l'ho noleggiato però penso che adesso me lo compro credo proprio credo proprio che me lo compro comunque dobbiamo... anzi no sì però dobbiamo noleggia pure un camione per trasportare tronchi di legna però va bene comunque questo qua che si chiama MAN un MAN... allora la mod si chiama MAN T6X 26.640 anche questo se volete ve lo lascio in descrizione però attenzione non è autoload di suo sto camion di suo non è autoload è la mod Universal Autoload Mod Hub Add-on che lo rende autoload e questo ragazzi come vedete carica di tutto io ho messo che carica ogni tipo ogni tipologia per attivare... per attivare ragazzi la mod dell'autoload quando salite sul mezzo eh... dovete fare CTRL maiuscolo e ER e la abilitare e la disabilitate vedete? c'è scritto lì attenzione perché di default quando la inserirete la prima volta la mod è disabilitata la dovete abilitare dovrebbe essere questo il tasto per abilitarlo ma in caso se non sapete che tasto è vi basterà semplicemente andare nel menu comandi quindi mettete la pausa andate nel menu comandi e scorrete in basso finché non trovate appunto l'autoload allora... ecco questi ad esempio sono i comandi del FLEAG timber runner autoload wood che è l'altra mod che ci serve per i tronchi che adesso andremo a vedere e questa invece... questi invece sono i comandi aspettate... no aspettate eh... pi 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 pi... eccola qua universal autoload vedete? qui ci sono tutti i tasti e... maiuscolo R maiuscolo R abilitate ecco vedete? maiuscolo R e abilitate la mod, una volta che la mod è abilitata come vedete maiuscolo R start loading e lui vi carica tutto quello a cui passate a fianco quindi qui stiamo caricando adesso le assi, però attenzione non è come l'altro che voi lo abilitate e rimane abilitato e carica tutto ogni volta che volete caricare qualcosa dovete sempre pigiare la combinazione dei tasti, quindi non è che lo dovete pigiare una volta, lo dovete pigiare sempre allora intanto io sono riuscito a incastrarmi, vabbè sto caricando le assi ragazzi perché io voglio fare un giro per le varie produzioni a vedere cosa serve e cosa non serve tra l'altro dobbiamo anche andare a recuperare, cioè vede a che punto sono sull'ottovolante là, l'ottovolante è importante, ecco fatto vedete poi ci pensa lui a sistemarvi le cose, ecco adesso diciamo che abbiamo fatto sto bel carico e andiamo al centro paese, al centro città in tutte le nostre produzioni, eh porca miseria, quando è pieno ragazzi è un problema sto camion, è bello ma quando è pieno si abbassa, si schiaccia col peso e dà questo tipo di problematica adesso noi, ripeto, ci facciamo un bel giro delle produzioni e vediamo dove distribuiste assi eccetera eccetera questa puntata la dedico esclusivamente agli autoload, spero che sia utile a tutti quelli che giocano su pc insomma ho già venduto tutti i muletti, vedete che mi sono fatto quasi 130.000 euro dei muletti lo sordi che avevo speso tutti i muletti, ogni produzione aveva il muletto, non si finiva più ragazzi e poi pure bello veloce sto camion, se dovete vendere, se dovete trasportare da un posto all'altro, guardate che spettacolo guardate che spettacolo raga si piotta come se non ci fosse un domani guardate come piotta, guardate come piotta look what piot in inglese, look what piot ragazzi allora cominciamo a distribuire assi alle varie produzioni vediamo un po' ce dovrebbe essere qua subito quella dei pavimenti credo, si eccole là, ma vi faccio vedere che poi in realtà è il parquet è il parquet, è pavimenti in legno, quindi a casa mia si chiama parquet ecco fatto, ecco fatto, adesso vi faccio vedere anche i pavimenti i pavimenti in legno, ecco questi sono i pallet di parquet parquet, parquet, la domenica, ma che c'ho la super forza e vedo la mano? è inattiva, però vedo la mano lo stesso, comunque questo è il parquet dopo verremo a caricare, li veniamo a caricare dopo quindi il parquet è a posto, il tornio, qualche asse lunga e basta, non è che c'ho ah ok, la segheria, ok però non è che c'ho tutta sta roba a livello di produzione toccherà pure comprare altre produzioni tra un po', eh poi andiamo a vedere anche le pecorelle dopo a che punto stanno, se hanno fatto la prima lana le prime lanette, le prime lanette tra l'altro, lì magari mi servirà un traspallet casomai metto quello a mano per spostare i bancali ragazzi, il problema di sto camion è che è basso l'unica problematica è quella quando salirete sul quando salirete sul sul cosino allora, vabbè, ma me vendo tutto ragazzi, eh me vendo tutto me vendo tutto oh mamma mia che è successo raga? niente non ho capito che è la staggitazione che avete sentito non riesco proprio a capire allora vediamo un attimo sono rimasti i 104 litri di piastrelle ma ce l'abbiamo dentro quindi fra 104 litri di piastrelle passeremo alla fase successiva non vedo l'ora raga non vedo l'oretta non vedo l'orina e l'oretta allora facciamo una cosa intanto vendiamo tutto così estinguiamo anche il debito spero in questa puntata credo che dovremmo riuscire a a estinguere il debito oh guardate i sordini guardate i sordini 64 mila euro ma non abbiamo mica finito adesso dobbiamo andare a recuperare tutta la roba del tornio dobbiamo andare a recuperare le piastrelle le assi del pavimento le piastrelle insomma il parquet poi dobbiamo andare a recuperare carta a cartone vende il metallo e quando abbiamo finito lì i sordi ragazzi il debito sarà ripagato da solo tutto a posto si vabbè ragazzi ma sto camion è allora o è il camion indiavolato o sui marciapiedi di questa mappa che so satanici cioè ma che è ma che cacchio appena tocchi un marciapiede zompi per aria ma che è allora andiamo a caricare ecco ci mettiamo qua carichiamo tutta la roba del torniotto se c'è un fio lo chiamo torniotto ok carichiamo finito mazza fa poca roba sto torniotto eh allora giriamo e andiamo e andiamo a caricare le 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 assi no le assi il coso il parquet andiamo a caricare il parquet è il suo parquet sto gioco ragazzi eh ragazzi sto gioco è il suo parquet veramente allora e poi sarà il caso di di espanderci anche in qualche altra attività ok caricate pure le assi oh ancora ce n'è un'altra ragazzetti ce n'è un'altra ce n'è un'altra ragazzetti ragazzetti ce n'è un'altra ok closed closed sentite closed closed e c'è un fiolo che chiamo closed allora la ritorniamo giù e poi ovviamente viaggettino in in produzione carta e viaggettino in acciaieria piano stavolta la viopiano la curva ho imparato memore dell'insegnamento ecco piano piano ragazzi sto camion è instabile è tanto bellino è tanto utile ma è tanto instabile è tanto instabile raga ok perfetto vendiamo giù mamma mia gli sordini che stiamo a fa raga what soldine we fair cioè quanti sordini stiamo a fare in inglese mamma mia mamma mia taglio ed eccoci all'acciaieria che tutte le feste si porta via ricordiamolo l'acciaieria raga tutte le feste si porta via guardate 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 come carica bene tutto in automatico oh che era l'inquadratura che è successo ragazzi avete visto pure voi quello che ho visto io è successa l'inquadratura non lo so I don't know I don't know I don't I don't know I don't know allora quanto quanto sto lontano qui dalla dalla eh beh io sto qua la fabbrica di cartone di cartina è qua forse ce la potrei fare fa tutto un viaggio sapete forse ce la potrei fare taglione non credo ragazzi che nella realtà si vada nei boschi con sto tipo di camion ma noi della realtà ce ne sbattiamo altamente le spelotas come dicono i miei amici spagnoli allora siamo arrivati alla oh mamma mia basta che c'è un piccolo spessore e sto camion si blocca dannazione arzate queste sospensioni arzate qualcosa ecco i rotolotti ecco i rotolotti robbimelle che non finiscono mai ecco i rotolotti di carta e cartone robbimelle che non finiscono mai e oh ce ne vanno solo due disdicevolezza disdicevolezza toccherà poi passare a fare un altro giro vabbè vabbè non fa nulla it's not far nothing adesso io nel frattempo che me cappotto altre 70 80 volte faccio un taglio e andiamo a vendere tutto così ripagiamo pure sto debito mamma mia ragazzi sto camion è più instabile che ne so di un prodotto chimico non testato mamma mia se è instabile penso che lo cambio eh per fortuna l'ho preso in affitto penso che lo cambio cercherò un'altra mod compatibile con l'autoload qua perché è veramente instabile mamma mia mamma mia tremo cioè basta che incontrano stuzzicadenti per terra e se cappotta mamma mia allora punto di vendita e poi andiamo ad occuparci della legna sempre a livello di autoload ok ragazzi ok tra acciaio e carta qui ragazzi stiamo a fare i sordi quando io vi dico che il debito va ripagato solo quando avete parecchie entrate economiche non è che vi dico una cacchiata vedete adesso adesso noi possiamo estinguere il debitazzo possiamo estinguere il debitazzo ragazzi io non mi ricordo più manco come si fa allora e vai restituisci 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 guardate che roba guardate che roba ragazzi debito estinto debito estinto ragazzi in 12-13 episodi quanti ne abbiamo fatti debito estinto e in più ci abbiamo 202 mila euretti da adesso siamo in positivo e inizieremo a guadagnare come dei capretti come dei capretti sardi insomma guardate che spettacolo qua intanto a che punto siamo con queste piastrelle ancora 103 litri c'è una super forza attiva non avete visto niente raga non ci pensavo che l'avevo già noleggiato il volvo non ci pensavo l'avevo già noleggiato raga questo volvo qua è noleggiato quindi giustamente allora ragazzi vi parlo adesso in questa seconda parte del video vi parlo degli autoload della legna ve l'ho già detto il pack si chiama Fliag Timber Autoload comunque ve lo scriverò bene allora o vi metto il link oppure vi scrivo bene il nome della mod questa mod qua praticamente carica tutti i tipi di legna anche quelli nuovi della della mappa una cosa importante è la misura cioè mi raccomando che quando selezionate la misura d'autoload del carro sia la stessa misura di autoload del taglio io adesso ho messo 12 metri quindi deve essere 12 metri di taglio e il carro deve essere 12 metri mi so spiegato spero che mi so spiegato ecco qua adesso noi tagliamo a proposito di alberi se siete interessati agli alberi quanto ci mettono a crescere mamma mia come sto a tagliare ma come sto a tagliare per chiacchierà sulla cappotta me lo sono messo sulla cappotta io l'ho incastonato come in diamante mamma mia mamma e mi sono pure incastrato poi no dai non ci credo che riesca a fare certe cose solo da robbimelle ragazzi certe cose vabbè non fa niente tanto poi ci passo col camion dicevo ragazzi se siete interessati a un tutorial completo sugli alberi come tagliare una determinata specie di albero come quanto ci mettono a crescere quali conviene seminare seminare quali rendono di più e rendono di meno quali sono più adatti al cippato e quali alle produzioni insomma raga voglio dire ma non taglia insomma voglio dire ci avete tutto nel video che ho fatto ieri se ve lo siete perso ve lo lascio qua nella i nel box informativo meno male che l'avevano sistemata sta cosa che tagliava si adattava in automatica al taglio se per caso andavi storto veramente guarda proprio se sta se sta veramente ad adattare tantissimo devo dire andatevi un attimo se sta a collisionare tutto non so quello che succede comunque ragazzi alcuni mi dicono ma com'è io non ce l'ho la linea verde la linea verde quella lì del taglio c'è solo se avete i comandi facilitati del braccio ok se togliete i comandi facilitati del braccio quella linea verde lì sparisce non ce l'avete più anche ragazzi io non riesco a capire lo sbaglio non mi si infila proprio oh bisogna avere c'è calma e pazienza siccome io purtroppo ho sempre questo problema della fretta con la fretta fu cattiva conigliera eh la fretta è una cattiva conigliera ok tagliamo mo me cappotto pure guarda tagliamo che me cappotto tagliamo che me cappotto qualcuno mi ha detto che c'è difficoltà a tagliare le sequoie che so le sequoie sono quelle arancioni se non mi sbaglio no quelle laggiù quelle si dovrebbero tagliare solo a mano perché credo che anche nella realtà non c'è nessun non c'è nessun macchinario abbastanza grande non c'è nessun processore forestale abbastanza grande da tagliare le sequoie quindi ve la dovete fa a mano la sequoia si però non si vede niente con tutti sti cespugli ragazzi qualche cespuglio di me modder quando poi farete le mappe forestali questa ormai è fatta e vabbè mettete meno cespugli perché vediamo una cippa con tutti sti cespugli un po' meno cespugli grazie capisco che nella realtà nei boschi ci saranno tutti sti cespugli ma non vediamo una cippa poi quando giochiamo quindi un po' meno cespugli grazie vabbè facciamo l'ultimo taglio e poi vi faccio vedere come autolodare autolodare vuol dire che ti lodi da solo capito autolodare allora togliamo dalle scatolotte un attimino questa ok switchiamo sul camionno una volta che voi avrete preso questi carri come vedete c'è una voce che si chiama adesso riprendo la tastiera change number of piles e qua se voi switchate io ho il tasto V ma di default è il tasto invio ma anche questo potete cambiarlo voi io ho tolto il tasto invio perché mi dava dei conflitti con un'altra mod qua potete cambiare la misura del tronco 6 4 12 io ho messo 12 che è il taglio che sto facendo poi dovete anche scegliere il lato di carico quindi con il tasto O scegliete se volete a sinistra o a destra vedete e poi una volta scelto fate start autoload wood con il tasto B e lui vi caricherà i tronchi sul lato selezionato adesso a me servono sul lato destro quindi switcho e vedete mi carica quelli sul lato destro teoricamente dovrebbe caricarvi tutti quelli del lato selezionato diciamo la scusate dovrebbe caricarvi tutte le misure da quella selezionata in giù quindi se selezionate 6 metri vi prende pure quello da 4 se selezionate 12 vi prende pure quello da 6 non ho provato ma dovrebbe essere così infatti vedete questo è più corto e me lo prende lo stesso e in questo modo ragazzi voi avete uno splendido autoload per i tronchi per le vostre produzioni e non dovete più ammattive con le forche le pinze e le cose varie poi ovviamente una volta che userete i container c'è pure quello che dice io usi container ho capito ma il container però comunque lo devi inforcare glielo devi mettere là invece qui basta che passi vicino questo è molto meglio molto più efficiente del container certo poi andremo anche a simulare i container sul treno alla vendita dei container faremo anche questo ma in questo momento della mia carriera dove io sto giocando mi trovo bene così con questa combinazione qui e adesso infine raga io volevo mandare innanzitutto salvo perché non si sa mai se faccio qualche casino volevo mandare avanti il tempo e vedere se se riusciamo a passare alla fase successiva ma veramente è lentissimo raga non gliela famo non gliela famo manco per fine puntata a passare no non gliela famo è troppo lenta a passare la fase successiva quindi sicuramente sarà per la prossima puntata allora ragazzi fatemi sapere se questo video dedicato esclusivamente agli autoload è stato di vostro gradimento se vi è stato d'aiuto lasciate il mi piacetto mi raccomando condividete il canale perché mi piacetto e condivisione sono i metodi gratuiti per sostenere il canale e se avete qualche domanda scrivete qua sotto io ringrazio i amici abbonati anima il cuore del canale il consenso al canale di sostenersi da andare avanti portare tutti questi contenuti noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao